Salve a tutti amici, sono qui questa volta a casa mia, cioè nella casa nella quale sono cresciuto, la casa dei miei genitori, e sono qui per un'occasione specialissima. Siamo riusciti a convincere mio padre... Ci è voluto poco. A convincere mio padre a parlare, a testimoniare un evento che è successo, nel quale, durante il quale eravamo presenti entrambi, insieme anche ad altri amici, ad altre persone, ed è un evento importante che riguarda gli argomenti che tanto ci interessano, che tanto ci stanno a cuore e che divulghiamo ormai da tanti anni. Quindi seguiteci, il video verrà pubblicato tra pochi giorni in YouTube, del nostro canale YouTube, e negli altri social, dal cielo alla terra Gubbio, marcomarsiliofficial.it e tutti i nostri canali, anche il canale Instagram. Bene, quindi seguiteci e un ringraziamento specialissimo, ovviamente, a mio padre che ha... Bacetto. ...che ha deciso di prestarsi a questa bellissima intervista, vedrete. A presto. A presto.